eh buonasera carissimi bal di carta non ho mai chiuso attenti mai 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 ma e volevamo solamente farvi conoscere una piccola avventura vissuta dal nostro baronetto adesso me la spiega subito eh vai baronetto dimmi l'avventura che hai vissuto questa mattina dai stamattina si sono incontrati al bal di carta due case forti che tanto si vede che si vedevano e una ha detto oh che combinazione